In un grande ristorante di lusso, Giango incontrò una novità musicale. Dalle finestre del locale poteva sentire una musica calda, esotica, strana, che sembrava far girare il mondo nell'altro senso. Era una musica diversa da qualsiasi cosa Giango avesse sentito prima di allora. Quella musica era chiamata come una parola straniera e bizzarra che presto sarebbe entrata in tutte le lingue del mondo. Era in tres. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.